Musica Benvenuti a tutti ragazzi sono Drick e benvenuti in questo mio nuovo video Oggi ragazzi siamo qua tornati dopo circa 3 settimane di inattività sul mio canale Questo perchè ragazzi sono stato molto impegnato con il lavoro e tutto Quindi sono stato impegnato con il lavoro e quindi ragazzi sono stato inattivo in queste 3 settimane sul mio canale E questo in realtà mi rattrista molto perciò troppo impegnato e non ho avuto veramente tempo di caricare video e di fare video Quindi ragazzi questo è un piccolo video blog in cui vi spiegherò molte cose La prima cosa, la prima delle tante cose che mi sono comprato è questa qua Questa è una Ninox F60 Ragazzi non so se vedete È veramente troppo figa, è troppo bella L'ho pagata circa 120 euro in offerta Se non stava a 160 penso E diciamo che è una buona action cam Registro in HD Allora ragazzi per questa diciamo action cam ho veramente tantissimi progetti Che voi nemmeno potrete Cioè vi potete immaginare Quanti progetti ho per questa action cam Quindi niente Poi la seconda cosa ragazzi che mi sono Come avete letto dal titolo mi sono comprato FIFA 17 Lo diciamo che me lo sono comprato Pagandolo il prezzo intero su Amazon E non so se mi arriverà il giorno Penso il giorno stesso di sicuro Il giorno prima Alcuni mi diciamolo Alcuni amici miei che mi potrebbe arrivare il giorno prima Ma è stimato per il 29 Proprio l'uscita Penso sia il 29 Comunque questa settimana Non mi farò attendere molto Già avete atteso molto per video delle sponsorizzazioni Sponsorizzerò i 7 canali Non più 5 ma le sponsorizzerò 7 Quindi rimanete attivi con i like Mi piace La pagina Facebook E tutto Quindi ragazzi Che dire Se questo piccolo video vlog vi è piaciuto Vi invito a lasciare un bel pollicione Condividere il video Mostrare ai vostri nemici E ragazzi Qui da drink è tutto Ci rivediamo in un prossimo video Bella a tutti ragazzi Ciao 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 Ciao